Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca. Ieri pomeriggio è riuscito per andare a pesca di trote ma non è più tornato a casa. Pasquale Stanchieri, 54 anni, di Teramo, è stato trovato dai soccorritori a pochi minuti fa riverso nell'acqua del torrente San Giacomo a Cerqueto di Fano Adriano. Le ricerche erano scattate in mattinata dopo la denuncia della scomparsa fatta dai familiari preoccupati per non averlo visto rincasare. Non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo è stata individuata anche la vettura dell'uomo, una lancia Ypsilon di colore bianco regolarmente chiusa a chiave. Delle ricerche si erano occupati i vigili del fuoco che hanno utilizzato anche un elicottero per solvorare dall'alto la zona particolarmente impervia insieme agli uomini del CAI, al corpo forestale e ai carabinieri. In questo momento sono in corso le operazioni di recupero del corpo, poi bisognerà capire le cause della morte dell'uomo che, stando a quanto si è appreso, non soffriva di alcun malessere particolare o disturbo di natura psichica. Andiamo avanti, anche a Pescara è stata molto alta l'adesione degli avvocati allo sciopero nazionale. Nelle parole del Presidente dell'Ordine Forense Donato Di Campli, i motivi della protesta. Presidente Di Campli, oggi attività paralizzata in Tribunale a Pescara per lo sciopero degli avvocati, quali i motivi di questa astensione? Le Camere Penali a livello nazionale hanno indetto tre giorni di astensione dalle udienze penali, quindi solo quelle penali, per protesta contro il disegno di legge che modificherà il termine di prescrizione dei reati. Quindi cosa vuol dire questo in soldoni? Cosa chiedete? Le Camere Penali chiedono essenzialmente che non sia l'imputato a dover scontare a suo danno le lunghezze del processo. Si vuole che il processo sia celere, che abbia tempi certi e che quindi la sua situazione di soggetto sotto giudizio non debba protrarsi troppo a lungo. Parlando del Tribunale di Pescara, dove ci troviamo oggi, quanti sono gli avvocati che si astengono dalle udienze? Ma da quello che si può vedere nelle aule di udienze, l'astensione credo che sia quasi totale da parte degli iscritti all'Ordine di Pescara. E lo sciopero degli avvocati ha fatto slittare al prossimo 6 giugno alle ore 15 l'udienza del processo relativo all'inchiesta della Procura di Pescara sul cosiddetto Partito dell'Acqua che si sarebbe costituito all'interno del lato numero 4 tra il 2003 e il 2007. Questa mattina il Collegio avrebbe dovuto pronunciare la sentenza di primo grado del procedimento che conta in totale 11 imputati tra cui l'ex presidente Giorgio D'Ambrosio per il quale nel corso della requisitoria il PM della Procura di Pescara, Barbara Del Bono, aveva chiesto 6 anni di reclusione. Gli 11 imputati devono rispondere a vario titolo dei reati di corruzione, abuso d'ufficio o peculato, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, distruzione di documenti, truffa ai danni dello Stato e in violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Le richieste di condanna riguardano solo alcuni reati in quanto per diversi capi di imputazione il PM ha chiesto di non doversi procedere a causa dell'intervento della prescrizione o perché il fatto non sussiste. Nel corso delle loro arringhe gli avvocati delle difese hanno chiesto l'assoluzione per i propri assistiti. E la nuova riforma della magistratura onoraria rischia di avere effetti controproducenti e incidere sui piccoli tribunali abruzzesi con uno svuotamento di lavoro. La nuova riforma della magistratura onoraria rischia di andare ad incidere il lavoro dei piccoli tribunali abruzzesi considerando che oggi la metà dei procedimenti è a carico dei giudici di pace. Questo potrebbe comportare uno svuotamento per i tribunali minori con ricadute che potrebbero non essere del tutto positive. Potrebbe essere un effetto collaterale non da poco secondo me perché in questo modo amplificando la competenza dei giudici onorari di pace come saranno denominati da 5.000 a 30.000 euro per le cause ordinarie e fino a 50.000 euro per la responsabilità civile derivante da danni da circolazione stradale e così via, con le competenze funzionali in materia di esecuzioni mobiliari e di materia condominiale, qualcosa in materia di volontaria giurisdizione, questo secondo me comporterà per i piccoli tribunali un evidente calo del carico di lavoro attuale. Carico di lavoro che è già ritenuto poco, diciamo così, idoneo dal Ministero di Grazie e Giustizia per rimanere aperti. Con questo svuotamento di ulteriori competenze credo che sarà quasi inevitabile che questi tribunali ne risentano. I giudici di pace oggi fanno quasi la metà delle sentenze in assoluto. Amplificando la loro competenza e svuotando quella dei tribunali significa un carico di lavoro considerabilmente aumentato per i giudici onorari di pace. Però questa legge è ben leggere, poi si vede che ha invarianza finanziaria, cioè non prevede ulteriori stanziamenti per il potenziamento degli uffici dei giudici di pace, che già vediamo che funzionano poco, funzionano male perché c'è poco personale e con questo ampliamento di competenze potremmo prevedere invece degli ulteriori effetti negativi in termini di lunghezza dei processi. Approvato in nottata il bilancio di previsione del Comune dell'Aquila tra tensioni e divisioni anche all'interno della maggioranza. In attesa che il governo Renzi dia il via libera al decreto Enti Locali, contenente la cosiddetta clausola Salva l'Aquila e con essa i 16 milioni promessi dai sottosegretari De Vincenti e De Micheli, il Comune dell'Aquila ha approvato, come da copione, in nottata il bilancio di previsione 2016. Un documento in cui sotto molte voci, dalla cultura al sociale, spicca il numero zero, pari agli stanziamenti che l'ente destinerà a quei settori. Si sa già invece dell'aumento dell'Atari, la tassa sui rifiuti, che per ora non aumenterà di un ulteriore 30%, ma resta da capire cosa accadrà in futuro se da Roma non dovessero arrivare nuovi fondi. Un via libera contrassegnato dalle tensioni, su tutte quelle testimoniate dalla vissa solo verbale, tra il sindaco Cialente e il consigliere comunale Giorgio De Matteis, un durissimo botta e risposta a cui, dopo le 11 e la pizza mangiata tutti insieme dai consiglieri, nell'aula delle commissioni è seguita una stretta di mano. Ma anche nella maggioranza le fibrillazioni erano e sono all'ordine del giorno. Come annunciato, Sela e Rifondazione Comunista non hanno votato il bilancio, con i consiglieri Perigli e Masciocco che hanno optato per l'astensione. Una scelta nell'area da giorni, ma che è destinata a ridisegnare gli equilibri nella coalizione di governo. Gli assessori di riferimento di Sela e Rifondazione, Penini e Leone, sembrano già con le valigie in mano e si attende una riunione annunciata nei prossimi giorni, in cui la decisione del sindaco e dei suoi verrà ufficializzata. Difficile ricostruire lo strappo di fronte ad una presa di posizione tanto netta. Di fatto, l'ala di sinistra della maggioranza ha espresso, anche se tecnicamente ha garantito i numeri per l'approvazione, una presa di distanza di fronte a uno strumento, il bilancio, che si può configurare come una fiducia eccellente alla sua maggioranza. Del resto, lo strumento finanziario è stato approvato proprio sulla scorta di una promessa, fatta dal Governo nazionale, ed è proprio sulla fiducia che questa venga mantenuta, che è arrivato il via libera dell'aula, con i soli voti della maggioranza. Dalle opposizioni, veleni e critiche, come da copione anche in questo caso. Prima riunione questa mattina nel Palazzo della Regione Abruzzo a Pescara per il nuovo CICAS, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali. Con la prima riunione tenutasi questa mattina nella sede della Regione Abruzzo in Viale Bovia a Pescara, è tornato operativo il CICAS, che si occupa di valutare le crisi aziendali e gli interventi relativi agli ammortizzatori sociali. Il tavolo, appena costituito, avrà durata triennale. Sono state valutate le istanze pervenute 2015 e 2016, quelle con l'istruttore positiva naturalmente il CICAS ha dato l'ok, adesso valuteremo quelle per il 2016, ne sono diverse, lo valuteremo nella prossima seduta. Nel corso della riunione è stata valutata anche la situazione dei lavoratori ex interinali di Attiva S.P.A., la società partecipata dal Comune di Pescara che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia in città. Il Ministero del Lavoro qualche giorno fa non ha detto sì alla stabilizzazione degli interinali, in quanto lo stesso Ministero ha ritenuto di non poter emettere alcun parere rispetto alla domanda posta dal Comune di Pescara, lasciando aperta quindi al momento solo la strada del bando di concorso. Il CICAS è stato chiamato a valutare la possibilità di concedere ai lavoratori i benefici della mobilità in deroga, un prolungamento della NASPI, sia per i lavoratori cui è già scaduta, sia per quelli a cui scadrà nei prossimi mesi. Bisogna verificare qual è la reale disponibilità di cassa, perché abbiamo dato mandato all'Inps in questo senso di verificare quelle che sono poi effettivamente le risorse che dovremmo investire e per poi regolarci di conseguenza. Saranno assunti attraverso un'agenzia interinale i nuovi lavoratori dell'ufficio della ricostruzione dell'Aquila, una scelta che ha scatenato le proteste degli idoni del concorsone. Nuove assunzioni fuori dagli elenchi degli idoni della selezione Ripam, il cosiddetto concorsone, quello bandito dopo il terremoto, per l'assunzione di circa 300 persone a tempo indeterminato da impiegare negli uffici della ricostruzione. L'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, guidato da Lagnero Fabrizi, secondo quanto denuncia il Comitato degli idoni del Ripam, si appresta infatti ad avvalersi di personale scelto attraverso un'agenzia interinale. Il Comitato in una nota ricorda come anche in passato aveva più volte inviato a utilizzare le graduatorie di idoni del Ripam, piuttosto che a ricorrere a nuove e costose procedure selettive, peraltro nel caso dell'agenzia carente dell'opportuno criterio di trasparenza e pubblicità. Rileviamo, scrive il Comitato, altresì che le motivazioni adotte per giustificare ogni volta il ricorso alla somministrazione di lavoro, quali l'assoluta urgenza e la limitatezza del periodo di tempo in cui tale mole di lavoro dovrebbe essere smaltita, sono puntualmente smentite dai fatti. Giova a ricordare a tal proposito la deliberazione congiunta 1-2013 dei titolari degli uffici speciali dell'Aquila e del Cratere che così giustificano la necessità di ricorrere per la prima volta alle agenzie interinali per l'organizzazione d'urgenza dell'ufficio centrale spropri. Certo a domandarsi quindi, scrive il Comitato, quale politica sul personale voglia seguire il RUSTRA che ha già al suo interno 22 collaboratori, di cui solo 5 assunti dall'egro datore Ripam, 10 unità di personale dipendente dalla società Abruz Engineering, 18 unità di personale somministrato dall'Agenzia di Lavoro Interinale e si agginge con questo nuovo atto ad assumerne altri 10. Pensa davvero tale ufficio speciale di approcciare il difficile compito di ricostruire una città a capoluogo di regione, ricorrendo sempre più spesso a personale selezionato da un'agenzia che non ha personatura, al suo interno professionalità idonee a valutare le competenze richieste, continua la nota. Si preferisce tale modalità all'assunzione di idonei già appositamente selezionati e valutati da commissioni composte da prefetti e dirigenti, ministeriali e nominate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prendiamo atto con amarezza di questa ulteriore ingiustizia, affermano gli idonei del Ripam nella nota e ci preme informare tutti i cittadini sulle modalità con cui gli uffici deputati della ricostruzione selezionano il personale che istruisce le pratiche per la ricostruzione delle loro case e su come si decida di investire il denaro pubblico. Nuovi incentivi per le imprese. Grazie al decreto del Governo è possibile usufruire di una riduzione del 10% della tassazione sul salario di produttività. A spiegare i vantaggi e le modalità di accesso alle agevolazioni è stata la CISL che ha organizzato un convegno a Pescar. Una detassazione del 10% che punta ad aumentare la produttività delle imprese e al contempo aumentare il salario dei lavoratori. La CISL elogia il decreto del Governo che apre nuove speranze alla tanto attesa ripresa economica. Ha fatto un decreto che prevede che quando c'è lo scambio tra l'aumento della turnazione, la revisione dell'organizzazione aziendale, persino la divisione degli utili, quindi delle azioni, i lavoratori hanno diritto a un salario che viene tassato solo al 10%. E se si fa welfare aziendale, cioè se si dà dei voucher ai lavoratori per i ragazzi che devono andare all'asilinido, per la mensa e così via, c'è completo e sonno dal pagamento della contribuzione. Si continua a puntare sull'export, quello che secondo i dati ha fatto da train all'Abruzzo nel momento più difficile della crisi. Diventa così strumento per una nuova spinta l'incentivo offerto alle imprese che vogliono ampliare la produttività. Le aziende sono informate, i nostri delegati sono già preparati a aprire il confronto, anche in alcuni casi hanno già aperto con richieste aziendali. Si tratta di rafforzare il salario, noi stiamo facendo un'iniziativa che si muove in questa direzione anche per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici. A giorni ci sarà anche uno sciopero regionale che si inquadra nelle iniziative nazionali. C'è stata una manifestazione a Roma dei pensionati unitaria. Abbiamo bisogno di rafforzare il reddito delle famiglie. Se non rafforziamo il reddito delle famiglie i consumi non ripartono e solo con l'esportazione il Paese non ce la fa. Si è svolto ieri pomeriggio a Montesilvano il convegno intitolato Il ruolo di tua nel TPL. Tra sindacati, regione e vertici dell'azienda unica la discussione è stata incentrata anche e soprattutto sulle problematiche che sono oggetto dei due scioperi previsti per il 27 maggio e il 10 giugno. C'è una situazione paradossale dove finalmente la regione Abruzzo anche su richiesta sindacale ha messo insieme le sue tre aziende del trasporto pubblico locale con la finalità di razionalizzare e di fare una struttura industriale che possa servire al servizio dei cittadini per garantire il diritto alla mobilità. Su scala nazionale si affacciano ulteriori riforme che tendono a tagliare le risorse o perlomeno a spingere per una forte razionalizzazione. Quindi con quelle risorse occorre dare il miglior servizio alla comunità. E qui abbiamo un problema. Abbiamo il problema che siamo d'accordo come sindacate, anzi abbiamo proposto noi per primi, io ero segretario generale dell'Abruzzo quando uscì questa proposta proprio da noi di unificare le tre aziende, la regione finalmente questa giunta regionale l'ha fatto e occorre una spinta in più perché ci sembra che si stiano ancora allungando i tempi per una effettiva unificazione di tipo industriale che tolga sovrapposizione di corse e magari le mette in momenti di richiesta in evanza e quant'altro. In sintesi, occorre fare il miglio finale per avere questa realtà che non vorrei che si dimenticasse. Il trasporto pubblico locale verrà aperto a gare ad evidenza pubblica e già sotto attacco su scala nazionale anche da aziende che vengono dalla Francia piuttosto che dalla Germania o da altri paesi. E qui si continua a ragionare forse in termini troppo provinciali e non si capisce che si rischia di perdere tutto. Buone notizie sul fronte della balneabilità pescara. Secondo le nuove analisi dell'Arta, i valori sono nella norma in due dei tre siti interessati dai divieti. Resta critica invece la situazione in Via Balilla. Buone notizie per il mare di Pescara. Ad annunciarle l'amministrazione comunale che rivela i risultati delle ultime analisi dell'Arta. Arrestare critica al momento è Via Balilla. Le analisi cominciano a dare conferma della buona azione e delle buone attività che sono state poste in essere. Chiaramente siamo ottimisti ma manteniamo un'assoluta cautela. Peraltro nella giornata di ieri l'Arta ha proceduto a svolgere il terzo campionamento i cui risultati dovrebbero essere conosciuti nella giornata di domani e quindi anche questo ci aiuterà a capire ancora di più come evolve la situazione. Una buona notizia che però non abbassa l'attenzione sul monitoraggio del territorio perché, ricorda del vecchio, serve un'azione congiunta anche da parte dei sindaci dei comuni attraversati dal fiume poiché è nel mare che confluiscono le disattenzioni di tutti. L'azione posta in essere non deve assolutamente interrompersi e questo è anche un monito a noi ma anche una riflessione, un invito agli altri. Noi andiamo avanti nel territorio del comune di Pescara con la stessa intensità dei giorni precedenti e dei mesi precedenti. Però sarebbe opportuno che anche gli altri comuni, gli altri enti, si adoperassero in tal senso. E mi auguro che la task force messa in campo dal prefetto possa servire proprio a questo. Ha preso il via quest'oggi, Officina L'Aquila, una tre giorni dedicata alla ricostruzione post-sisma. Dal Salone della ricostruzione agli incontri internazionali di restauro e riqualificazione. È un passaggio ideale quello che accompagna l'avvio della tre giorni dedicata ai processi post-terremoto che fino al 26 maggio prossimo animeranno Officina L'Aquila, promossa da Ance Abruzzo e Carsa all'auditorium del Parco. Oltre 3 miliardi e mezzo per la ricostruzione privata e più di 350 milioni per quella pubblica. Numeri importanti, snocciolati nella prima giornata di incontri in cui gli addetti ai lavori hanno espresso fiducia nel futuro e giudizi positivi su ciò che è stato fatto finora. La ricostruzione è a buon punto, nel senso che le periferie sono state completate, il centro storico si è avviato in maniera abbastanza consistente, quindi ha preso forma. Ma la tre giorni vuole coinvolgere la città, studenti e tecnici, per far capire quali sono le potenzialità di un modello di ricostruzione che si punta ad esportare anche fuori confini nazionali. Continuare quello che è sempre stato un dibattito all'interno del Salone della Ricostruzione, dello Stato dell'Arte. Nello Stato dell'Arte fortunatamente quest'anno è molto più tranquillo, c'è un ottimismo in giro importante e quindi si può incominciare a parlare non più solo di ricostruzione economica, ma anche di ricostruzione sociale del territorio. Poi c'è un momento di approfondimento importante sui temi strategici della riqualificazione di l'Izia, quindi i temi della Smart City, del risparmio energetico. Infine il terzo giorno il tema del restauro con consolidamento, un tema che vede l'Aquila assolutamente centrale a livello mondiale, perché in questo luogo si stanno utilizzando tecniche e tecnologie con un'intensità che non ha pari a livello mondiale. Una situazione quindi strategica che va utilizzata sia per migliorare la ricostruzione aquilana, ma che sarà possibile vedere con i canteri aperti e già di livello altissimo, ma principalmente potrà servire per esportare la qualità delle imprese e dei progettisti a livello nazionale ed internazionale. In parallelo a questi tre giorni poi ci sono i cantieri aperti, una serie di imprese aprono i loro cantieri a visite guidate e attraverso questa iniziativa sarà possibile vedere la meraviglia di quello che sarà il futuro dell'Aquila a breve. E ora apriamo la pagina sportiva perché scattano questa sera i play-off di Serie B con la partita tra Cesena e Spezia. Il Pescara entrerà in scena domenica e aspetta la vincente di Bari-Novara, partita che si giocherà invece domani sera. Comunque sia sulla strada dei Biancazzurri ci sarà un ex. Vediamo. Scattano questa sera i play-off di Serie B con la gara del Manuzzi, dice Sena tra i padroni di casa di Massimo Drago e lo Spezia. 90 o al massimo 120 minuti per scoprire chi affronterà in semifinale il Trapani di Cosmi, ai Romagnoli va bene anche il pareggio. Domani sera toccherà a Bari-Novara che al San Nicola si contenderanno il ruolo di semifinalista contro il Pescara. Le pressioni principali sono sui pugliesi che hanno l'obiettivo di tornare in Serie A anche se le ultime ore sono state turbate da voci di un presunto pignoramento di 2 milioni di euro sui conti del club, fatto smentito dal presidente Gianluca Paparesta. Il tecnico Andrea Camplone potrebbe riaffidarsi a Magnero Centravanti al posto di Puskas, a De Luca al posto di Sansone. Defendi rileverà lo squalificato Don Corr. Meno pressione e tanta voglia di stupire per un Novara praticamente al completo, out il solo Faraoni e che tenterà di sorprendere il Bari sulle ripartenze. Massimo Oddo, come tutto il Pescara, guarderà con attenzione il match per studiare i prossimi avversari. E mentre gli sportivi si dividono su chi sia meglio affrontare in semifinale, quel che è certo è che sulla strada verso la A il Defino incontrerà comunque un ex, Marco Baroni, quello più recente. Oppure Andrea Camplone, pescarese doc, che come lo scorso anno col Perugia potrebbe incrociare il Pescara negli dispareggi post-stagione. Curioso che lo scorso anno i Biancazzurri sfidarono tre ex nei play-off. Camplone appunto, poi Pasquale Marino e Deglio Rossi. La storia potrebbe ripetersi perché in caso di approdo in finale uno sfidante potenziale potrebbe essere Cersei Cosmi. Vincerà alla fine la squadra che, oltre ad essere assistita quando serve dalla buona sorte, vedasi Bologna lo scorso anno, avrà più fame e voglia di vincere. Aspetti che dovranno corroborare una condizione fisica che, chi più chi meno, non sarà ottimale per nessuna delle sei concorrenti che hanno sulle gambe già 42 partite. E che la testa conti tanto dipende anche dal fatto che chi arriverà in fondo giocherà tanto in poco tempo al ritmo di una gara ogni tre giorni. Nel Pescara si stanno allenando in maniera differenziata Zampano e Verre, che entro domani torneranno regolarmente in gruppo. L'Edyan Memushay, in ritiro con la nazionale albanese in vista degli europei, tornerà in Abruzzo venerdì e sarà a disposizione per la prima partita. Una curiosità, la novità prevista dal regolamento, cioè la finale con tempi supplementari e rigori, in caso di arrivo in classifica con lo stesso numero di punti, sarà possibile solo se l'ultimo atto sarà tra Bari e Cesena, che hanno chiuso a quota 68 con i Galletti Quinti e i Romagnoli Sesti per via dei risultati degli sconti diretti. Si è parlato di diversi allenatori nel servizio e a proposito di allenatori, Marco Giampaolo, che quest'anno ha brillantemente guidato alla salvezza in Serie A Lempoli, è intervenuto ieri nel forum dell'Asso allenatori che si è tenuto all'aurum di Pescara. Il Pescara è una squadra molto simile nelle caratteristiche generali all'Empoli perché è stata costruita con qualità e secondo me poi alla lunga le squadre che esprimono valori tecnici hanno più possibilità di vincere. A Massimo ha fatto benissimo l'anno scorso quando è subentrato, caratterizzando fortemente la squadra sotto il profilo tecnico. Quest'anno, tranne quel periodo dove la squadra non riusciva a vincere, ci può stare perché il campionato di Serie Bietta è lungo e non puoi pensare di stare sempre al 100%, adesso è tornata una squadra forte che ha autostima e che penso abbia grandi chance per la vittoria finale. Massimo, bravo rispondendo alla tua domanda, bravo perché comunque ha tanta esperienza, è stato giocatore di alto livello, sai cosa significa giocare nelle grandi squadre soprattutto nella mentalità vincente che poi riesce a trasmettere alla squadra. Pescara-Bari-Trapani, c'è una favorita Marco? Il Trapani è la sorpresa forse, grande entusiasmo, squadra sbarazzina, allenatore esperto. Il Pescara mi ha avviso la squadra che ha più qualità rispetto alle tre e Bari galleggia tra l'A e la B a storia così come il Pescara è difficile fare un pronostico, io per Abruzzesi mi auguro che la spunti il Pescara. Non ci vuoi dire nulla sul tuo futuro, dai. Il mio futuro per adesso è a casa, Giuliano, non ho contratto, quindi è sicuro, sicuro è questo. Gli attestati di stima però che arrivano da Milano, sponda rossonera, sono sicuramente importanti, fanno piacere. Ma essere accostato a quella pencrina lì è un onore per me, ci mancherebbe, però poi punto, altro non c'è. Il difensore del Pescara, Alessandro Crescenzi, parla dei prossimi play-off e parla anche della sua condizione fisica. Crescenzi molto limitato dagli infortuni nel corso del girone di ritorno e rientrato dal primo minuto, proprio nella gara con il Latina. Alessandro, ritorno in campo dal primo minuto dopo un bel po' di settimane, una prova positiva, però non è coincisa con la vittoria del Pescara. Però per te sicuramente è stato importante scendere in campo dall'inizio. Sì, sono contento di essere tornato in campo dopo parecchio tempo e di aver fatto 90 minuti. Mi dispiace per il risultato perché volevamo vincerla fortemente. Abbiamo preparato molto bene questa gara e sapevamo dove il Latina poteva farci male. Purtroppo nel secondo tempo abbiamo rischiato leggermente in qualche contropiede. Però la prestazione c'è stata, abbiamo mantenuto molto possesso palla e comunque siamo contenti della prestazione. Ci è dispiaciuto perché, come ho detto prima, volevamo fortemente questo terzo posto. Però siamo arrivati i quarti e siamo contenti del nostro campionato perché abbiamo fatto partite molto importanti. Adesso ci andiamo a giocare questi play-off e sempre più convinti delle nostre qualità. La condizione fisica com'è in vista dei play-off? Io sono contento di come sto. Oramai sono due o tre settimane che mi alleno col gruppo, ho fatto molti amichevoli, anche una partita con la Primavera. Mi sento bene, la mia forma sta crescendo di giorno in giorno. Prepareremo bene questa partita, vedremo chi dovremo affrontare e la prepareremo come al solito al 100%. Io ti dico la verità, noi non temiamo nessuno. Sinceramente adesso sono tutte forti e andiamo a giocarcela con chiunque, quindi non ho una squadra che temo di più rispetto ad altre. Si è tenuta nei giorni scorsi presso il milianico Golf Club la conferenza stampa in occasione dell'appuntamento italiano del progetto CETUR finanziato nell'ambito del programma europeo COSME 2014-2020. L'appuntamento concluso in terra abruzzese è la fase di test dei pacchetti turistici legati al golf e al turismo del vino svoltasi nei mesi di aprile e maggio in Portogallo, Francia e Spagna ed ha visto la presenza dei partecipanti delle tre delegazioni internazionali designate per la tappa italiana. Il principale intento di CETUR è quello di migliorare l'offerta turistica dedicata ai senior in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, aree geografiche di riferimento del progetto, coniungando destinazioni turistiche meno sviluppate ma ugualmente dotate di un ricco patrimonio culturale e paesaggistico nelle immediate vicinanze dei campi da golf. Uno studio dettagliato di mete e di itinerari interamente dedicate allo sport, al relax e a percorsi enogastronomici, tutti rigorosamente volti alla creazione di una nuova e di imperversante filosofia legata ad un turismo destagionalizzato e transnazionale rivolto ai senior. In un'ottica di promozione e diffusione del gioco del golf, ma soprattutto anche di implementazione dell'incoming turistico delle aree di riferimento, Federgolf Abruzzo e Morise si è resa promotrice della realizzazione dei primi due strumenti di comunicazione e divulgazione delle potenzialità dei territori oltre confine, ha dichiarato Marco Tucella, delegato regionale della Federazione Italiana Golf. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.